Si riunirà in videoconferenza venerdì prossimo, 17 aprile, il Consiglio Comunale di Egrigento. La convocazione è stata firmata dal Presidente Daniela Catalano, così come indicato e deciso dopo la conferenza dei capigruppo consigliari che si sono riuniti attraverso una piattaforma telematica. Finalmente, dopo più di un mese di blocco totale delle attività, commenta il Consigliere Nuccia Palermo, il Consiglio Comunale, grazie all'impegno di tutti i consiglieri e del Presidente Catalano, tornerà a riunirsi venerdì prossimo attraverso una piattaforma digitale. Le sedute del Consiglio saranno registrate, pubblicizzate e visionabili da tutti. Uno solo l'argomento in discussione, aiuti economici e le prescrizioni in tema di sicurezza e contenimento che il Comune di Egrigento sta adottando e adotterà per fronteggiare la pandemia. La situazione che stiamo vivendo è assolutamente inedita e fino a qualche mese fa inimmaginabile. Proprio per questo motivo continua Nuccia Palermo, è giusto che si pretenda dalla politica un maggiore sforzo e una maggiore attenzione in ordine ai problemi che i cittadini si trovano a fronteggiare per la prima volta e che mai avrebbero pensato di affrontare. Di fronte a un evento così drammatico, le difficoltà in cui i cittadini incorrono sono così tante e varie che rischiano di cadere nel vuoto laddove non opportunamente veicolate. Per questa ragione rivolgo un invito a chiunque sta riscontrando problematiche che possono trovare risoluzione attraverso un intervento politico-amministrativo e segnalarle. La sottoscritta, in tal senso, conclude il consigliere Palermo, si mette a completa disposizione per raccogliere ogni doglianza o proposta che provenga dai cittadini. Nuccia Palermo analizza anche la situazione attuale. Urge senza trascurare le esigenze dell'immediato, cominciare a guardare al prossimo futuro, dice che in assenza di strategia si profila cupo. La nostra economia è retta da voci per le quali, verosimilmente, la crisi sarà più duratura. Penso al settore alberghiero, ai B&B, strutture ricettive, ristorazione e qualsiasi attività che è pensata e diretta all'accoglienza dei turisti. Questi settori, ovviamente, conclude Palermo, non potranno ripartire con uno schiocco di dita ed è necessario che la politica, per una volta, giochi di anticipo e si metta seriamente al lavoro per individuare soluzioni concrete e condivise ascoltando le voci dei vari operatori del settore e delle varie parti sociali. Grazie.